Diamo il benvenuto ai campioni in carica dei giochi intergalattici, la Korugar Academy! E dall'altro lato, gli sfidanti, la Super Hero High School! E adesso posso dare il via! Che c'è? Sembra che ci siano delle difficoltà tecniche! Ehi, salute! Ciao! Ma... ma che succede? Lena Turoll indossa l'armatura dei poteri! Assomiglia a quella di Lex Luthor! Sì, Luthor Turoll! Sono le stesse lettere, ma in un ordine più malvagio! Serve un tecnico informatico? Potrei sistemare il vostro giochetto, ma preferisco sistemare tutta la città! Per tutti gli ingranaggi! Platinum! Un mantello! Per volare via verso l'area in realtà Un mantello! E potrò sconficciare il mare Un mantello! Per volare via verso l'area in realtà Un mantello!